Sindaco, noi innanzitutto partiamo dal suo stato d'animo, com'è in queste ore? Tranquillo, perché io sto facendo il mio dovere di sindaco, sto difendendo la Costituzione italiana, sto difendendo anche la natura di una città come Pesaro che è fortemente antifascista. Del resto sono bastate poche ore per far emergere qual è la natura di questi movimenti. Movimenti violenti, violenti nelle parole, purtroppo spesso in giro per l'Italia anche nei fatti, però credo che sto facendo il mio dovere di sindaco perché c'è un'avanzata molto forte di movimenti neofascisti, neonazisti che spesso e volentieri si nascondono dietro statuti fasulli che gli consentono di presentarsi con una faccia differente mentre in verità la loro natura è chiara a tutti. Ed è per questo che da settimane sottopongo la questione anche al ministro Minnit e al ministro della giustizia Orlando perché c'è un cortocircuito istituzionale. Se ognuno di noi deve presentarsi per quello che è, non presentarsi in un modo attraverso gli statuti e poi nella realtà praticare valori che sono stati sconfitti dalla storia e che però in questo momento sono fortemente preoccupanti. L'intolleranza, il razzismo è molto diffuso mentre invece la Costituzione italiana si basa sulla libertà, sull'uguaglianza e sulla tolleranza. Ci sono indagini in corso, ci sono aggiornamenti in queste ore? Sì, credo ovviamente gli insulti li ho cancellati, le minacce ho dovuto segnalarle alla Digos, alla Questura che stanno facendo i loro controlli, però insomma non sono il primo e purtroppo non sarò l'ultimo perché l'atteggiamento è questo, è un atteggiamento fortemente violento di chi è bravissimo a minacciare, bravissimo a usare questi atteggiamenti e ovviamente poi la polizia farà tutto quello che serve per individuarli. Non credo che siano persone del nostro territorio quelle che hanno fatto le minacce, almeno guardando i loro profili, però insomma non aspetta a me a farlo. Io con serenità faccio il sindaco, quotidianamente occupandomi dei cittadini e occupandomi anche dei valori del nostro paese e della nostra città.